Buonasera, siamo con Pino Desi, il vicepresidente della Fulgo, insomma 33 anni che aspettava questo momento, cosa mi dice? Come socio fondatore sono stato e anche presidente per 5 anni, questo per me è un momento indimenticabile, perché aspettare 33 anni, un risultato così non è da tutti i giorni, ho avuto costanza, fiducia e devo ringraziare tutti quelli che si sono alternati in tutti questi anni, dirigenti, giocatori, allenatori, che hanno conseguito questo grande risultato sportivo. Allora c'è da ringraziare qualcuno, qualcuno in dirigenza e qualcuno in campo? Guardi, come dirigente voglio ringraziare la nuova dirigenza, Roberto Agiolas, il nuovo presidente e soprattutto il mister Valluzzi e tutti i ragazzi che hanno conseguito questo grande risultato, che veramente ancora non ce ne rendiamo conto, ma siamo in promozione. Benissimo, complimenti Pino, arrivederci allora alla promozione, l'anno prossimo sempre su Diario Sportivo, grazie a voi.